Splendida su questo carpet, un punto sul cinema, adesso siamo tornati a fare festa invece di festival e allora lei da grande attrice qual è? Che ne pensa? Gioverà a Roma questa festa? Io ancora nella memoria quando ho pregnato Sean Connery, dieci anni fa, la prima festa del cinema è stata una grande festa, ha portato bene al cinema italiano e io credo che giova sempre giova sempre essere intorno al cinema, fa bene, io vengo da Madrid, sto lavorando lì, faccio l'attrice di esportazione però resto sempre italiana. Maria Rosaria, la differenza che noti nel cinema all'estero visto che vieni proprio dalla Spagna rispetto all'Italia, c'è qualcosa delle produzioni diverso che forse dovremmo aggiustare? Dipende sempre molto dal regista, il vero direttore d'orchestra è sempre regista, cioè in Polonia ero sul set di Waida non solo su un set polacco, in questo caso è una grande fiction di cinema, il cinema è veramente, è come la musica assolutamente internazionale, io mi preoccupo di portare un pezzetto di Italia grazie mille a voi